buongiorno a tutti stamattina testeremo cartucce in acciaio 35 grammi piombo 5 con canna 63 tre stelle ported gemini ovviamente ho messo dei cartoni per far capire la rosata vedete di spiegare meglio possibile vedete la rosata è perfetta pochi spazi vuoti un diametro di 50 centimetri per 50 di altezza e vedete che non ci sono assolutamente vuoti ovviamente i pallini periferici ci saranno sempre però per essere una cartuccia tirata con una canna piuttosto corta comunque la canna è di 61 con uno strozzatore che aumenta di 2 e 3 stelle a 25 metri vedete che per qualsiasi servatio uscire da questa rosata se centrato in columo è veramente impossibile pur sparando con cartucce in acciaio ok alla prossima Grazie a tutti